Buonasera, questo video per fare la consuetta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 14 settembre, sono le ore 18.45. Partirei come al solito dalla borsa italiana, dal nostro future Fuzzimib che oggi nonostante rialzo di tasse da parte della BCE si sta ben comportando, direi molto ben comportando, ha confermato il superamento della resistenza intermedia dei 28.500 punti e si sta dirigendo con forza verso i 29.000 punti. Credo che il mercato sia impostato al rialzo e che questa positività continuerà anche nelle prossime sedute, prima per raggiungere il 29.000 e poi il livello 29.165 che è il massimo relativo precedente dello scorso 30 ottobre. Quindi positività per le prossime immediate sedute, sia domani che l'inizio della prossima settimana. Positività che si sta manifestando anche sul mercato tedesco, sul future DAX che dopo essere rimbalzato e tenuto nell'area attorno al 15.600 delle ultime sedute, oggi ha fatto una configurazione particolare, un pattern di analisi candlestick molto simile, assimilabile al bullish engulfing che è un pattern di inversione rialzista, in versione necessaria perché effettivamente il DAX come si vede in questo mese di settembre da fine agosto era in leggero ribasso in una fase prolungata di ritracciamento ribassista e quindi inversione di tendenza che ha portato a questo pattern di rimbalzo con anche in contemporanea il superamento della prima resistenza determinata e rappresentata dalla media mobile a 25. Quindi positività anche sul DAX che dovrebbe nelle prossime sedute, soprattutto la prossima settimana, mi aspetto che raggiunga la fatidica soglia psicologica dei 16.000 punti. Molto bene anche lo Standard & Poor's 500, quindi dando uno sguardo a quello che succede oltre oceano a Opel Street, ha tenuto il supporto presente sul livello 4.450 ed è in corso un bel rimbalzo, una inversione di tendenza. Oggi abbiamo raggiunto la soglia dei 4.500 punti e ci stiamo portando verso il più importante livello di 4.533 che è una resistenza dove passa l'indicatore super trend. Anche in questo caso venti in poppa ripeso per tutti i mercati azionari grazie al balzo della giornata di oggi, positività che dovrebbe estendersi nelle prossime sedute. Quindi non si è sicuramente ancora in ritardo per aprire posizioni long. La giornata ottimale era oggi, quando c'è stata quell'inversione di tendenza intraday avvenuta nel primo pomeriggio. C'è ancora tempo per acquistare future e mettersi in posizione long perché il rimbalzo è in corso, è appena iniziato e si stanno dirigendo verso tutti i mercati azionali, quindi visti finora, verso le resistenze che probabilmente e questa volta verranno rotte al rialzo. Quindi venti in poppa per i mercati azionali, lo ripeto, positività e long sono le operazioni da privilegiare. Passando alle commodities, la prima che andrà a analizzare è il petrolio, crude oil, WTI, 90 dollari ci siamo arrivati. 90 dollari era il barile, era il target previsto, quindi l'analisi effettuata la scorsa settimana, ma anche quella prima si è rivelata assolutamente corretta, il trend era rialzista, il target dei 90 era assolutamente prevedibile e preventivato, perché detto più volte è questo il prezzo giusto a cui l'OPEC vuole vendere il petrolio ci è arrivato, quindi direi che le posizioni a questo punto hanno già raggiunto il target e possono anche essere chiuse. Adesso qualcuno potrà dire che potrebbe arrivare a 95 e qualcuno più ambizioso potrebbe pensare addirittura alla soglia psicologica dei 100 dollari da valire. Ecco, io francamente questo non lo credo, credo che sia effettivamente eccessivamente ambizioso. Vediamo il target a 90, lo abbiamo raggiunto, previsione corretta, guadagno con le nostre posizioni long aperte già da più di 20 giorni fa, a questo punto le chiuderei e in quanto mi aspetto a questo punto una fase di lateralità, una fase di congestione, o se non altro un consolidamento dei livelli attuali. Nelle prossime sedute, in realtà qui mi aspetto un piccolo ritracciamento, perché il 90 è un target importante, ma è anche una resistenza importante, quindi non credo che verrà superata ulteriormente. Quindi la situazione dal punto di vista operativo non è certo quello di mettersi short, perché saremo contro tendenza, però ormai è tardi per ogni velleità rialzista, è meglio rimanere alla finestra per vedere nella prossima settimana come si muoverà. E ripeto, la mia provvisione è che non dovrebbe cambiare molto, dovrebbe assestarsi più o meno su questi livelli, fra l'87,50 e il 90. Analisi che si è rivelata corretta anche sull'oro, sul gold, quella effettuata la scorsa settimana, il trend di breve è ribassista, il target ribassista che avevo dato era vicino a 1900 e in particolare il raggiungimento dell'indicatore super trend, che proprio oggi è stato raggiunto con un minimo a 1904. In realtà, ampliando un po' l'orizzonte temporale, il mercato sta lateralizzando in un ampio, ampissimo trading range tra il 1900 e il 1950 dollari l'oncia e finché rimane con questo trading range, in questa congestione, va adottata la strategia di comprare sui supporti e vendere sulle resistenze. E poiché siamo sul supporto, che è evidente come almeno oggi abbia tenuto l'indicatore super trend, per le prossime giornate mi attendo un rimbalzo, che possa portare le quotazioni fino almeno a 1937-1940. Lì poi vedremo il da farsi, però direi che il trend di breve si è esaurito, incontrando questi primi supporti che dovrebbero arrestare la discesa e permettere invece un rialzo. Quindi sono convenienti già da oggi, anche con il pattern che si è creato oggi, una sorta di Dragonfly Doji, un po' stentato a dire il vero, un Doji, Dragonfly Doji, comunque figura che volendo interpretarla con il bicchiere mezzo pieno è una figura di inversione rialzista, credo che il mercato reagirà positivamente nelle prossime giornate. Infine uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, l'Euro-Dollaro, qui la discesa in realtà continua e continua addirittura accelerando al ribasso. La scorsa settimana avevo ipotizzato l'idea di un rimbalzo, perché stava scendendo troppo e anche da troppo tempo. In realtà c'è stato un tentativo maldestro di fare questo rimbalzo, in realtà non c'è riuscito e la giornata di oggi lo ha smentito clamorosamente, andando anche a violare un supporto, quello che era posizionato sul livello 1,06 e 40. Quindi direi che il mercato continuerà a scendere ancora per qualche seduta, probabilmente andremo verso 1,06 e 25 e per cui a questo punto ipotizzare davvero un rialzo. Nel senso che ogni volta che si tocca un nuovo minimo è l'occasione, a mio parere, per tentare il compaccio del rialzo. Per lo meno questa è la natura del trader un po' aggressivo, anche perché mettermi in posizioni short effettivamente lo ritengo ormai decisamente tardivo. Quindi guarderò il grafico giornalmente, appena vedrò l'ipotesi di una candelina verde, per me potrebbe già essere un segnale di un rimbalzo di qualche giorno, non particolarmente duraturo, ma l'occasione per fare un trading con un piccolo rimbalzo. Magari adesso, nelle prossime giornate, si scenderà ancora, si andrà a 1,06 e 25 e per poi mi aspetto che lì si crei un minimo o qualche candela verde per ipotizzare un rimbalzo. Diciamo che le provo tutte, prima o poi ci indovinerò, insomma, d'altro canto non credo che questo mercato andrà a 1,05 e comunque non in tempi brevi. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro buon trading.